La responsabilità sociale per noi di Despar è un valore condiviso da tutti e che ci guida le nostre scelte. È la responsabilità verso i nostri clienti che ci scelgono ogni giorno e verso il nostro territorio. È un impegno costante durante tutto l'anno che si traduce in numerose iniziative solidali in collaborazione con Enti Benefici e ONUS. Oggi più che mai vogliamo essere vicini alla nostra comunità e rappresentare un punto di riferimento ed è con questo spirito che abbiamo realizzato il progetto I Sacchi della Solidarietà. Un'importante donazione di oltre 3.000 sacchi contenenti generi alimentari devoluti in beneficenza alle caritas cittadine delle città del sud Italia. I Sacchi della Solidarietà sono l'evoluzione del progetto storico Le Cene della Solidarietà che hanno sempre avuto luogo nel mese di dicembre e che quest'anno a causa del Covid abbiamo dovuto sospendere. Il progetto I Sacchi della Solidarietà ha raccolto sin da subito l'entusiasmo del personale de SPAR. Uomini e donne in prima linea in tutte le nostre attività. Sono loro i veri ambasciatori dei valori de SPAR, valori che condividiamo e che ci appartengono da sempre. Valori legati alle persone prima che alle insegne. Valori che in un momento così buio possono diventare luce, brillare e portare un po' di speranza nelle nostre città. E questo è il nostro augurio per tutti voi.